Allora, sì ragazzi, infatti volevo aggiornarvi anche su questo, scusate se mi tocco sempre i capelli, ma quando faccio la piega liscia sono troppo morbidi e mi piacciono troppo. Comunque sì, la cissa è da 6 cm diventata 3, quindi questo vuol dire che mi ha aiutato tanto, perché invece che ingrossarsi si sta rimpicciolendo. Io sono super felice, ho fatto la visita al ginecologo, sono felice anche perché almeno mi evito un'operazione che già ne devo fare tante. Un'operazione meno, scusate che c'è un autista qua che qui da modo suo. E poi Diesel Unboxing per Perla Battiero, guardate che bella borsa, intanto la Perla ha un debole per le borse di diesel, non so se perché lei le acquista o gliel'hanno regalate, ma comunque bisogna dire che le ho anch'io di borse di diesel, pur se sono molto vecchia. Sono borse molto belle, che non costano tanto, poi le hanno regalato anche delle magliette, guardate qua, allora fatemi dire che diesel comunque è una delle marche più cool per i giovani e per i vecchi come me. Chiudiamo con Antonella, ciao! Grazie!